benvenuti a questa video lezione il cui titolo è una piattaforma a scuola l'uso di ambienti virtuali di apprendimento per la didattica e l'organizzazione della vita scolastica in questa lezione andremo a rispondere a queste domande ad alcuni di quelli di quei temi di quegli argomenti che più o meno sono più rilevanti per quanto riguarda l'uso di questo tipo di tecnologia all'interno di un contesto di apprendimento le problematiche affrontate sono molteplici sicuramente problematiche politiche socioculturali e infrastrutturali gli elementi e o comunque i temi che ho voluto approfondire brevemente riguardano il processo di digitalizzazione che la scuola italiana sta vivendo in questi ultimi anni la crescente complessità della popolazione scolastica l'architettura ovvero la disposizione dello spazio e dell'edilizia della scuola la disponibilità tecnologica che c'è nelle varie scuole italiane e un cambio di mentalità che viene richiesto al corpo docente ma non soltanto al corpo docente questa lezione vuole essere un momento di riflessione per aiutare i frequentanti a riflettere un po sulla figura dell'educatore quindi cominciamo con la prima slide che si intitola appunto il setting pedagogico tutto questo ha a che vedere con i tre mondi pensiero linguaggio e realtà e vorrei che questo fosse un elemento come dire che guiderà un po la riflessione che faremo anche successivamente il secondo aspetto che è legato ovviamente a tutto ciò che è comunicazione e soprattutto comunicazione organizzativa è l'identità ad utilizzarla in maniera uguale cioè parliamo di aggressività semplicemente connotandola in maniera negativa e così invece non è dobbiamo però fare riferimento quando parliamo di aggressività alla fase evolutiva cioè anche le modalità di espressione del disagio dei comportamenti a rischio e della stessa aggressività sebbene negativa quando spesso e volentieri si parla di se facciamo riferimento a comportamenti aggressivi o a violenti si sente parlare di ragazzi che commettono reati o quant'altro grazie a tutti grazie a tutti